Ciao a tutti, ci troviamo sulla telazza del Lederle a Bolzano, precisamente sulle dolci colline di Santa Maddalena e oggi abbiamo il piacere di avere con noi Alberto Franchi di Villa Laviosa che presenterà alcuni dei suoi fantastici prodotti. Grazie Cristian, è veramente bellissimo oggi una giornata d'autunno. Sono molto contento che Cristian abbia pensato ai nostri prodotti per creare una ricetta particolare facendo un cocktail, un after dinner, ha scelto il nostro amaro Saverio, un amaro d'erbe fatto con radici e infusi delle nostre dolomiti, abbinato a uno dei nostri grandi prodotti, la grappa barrique dei cinque elementi. Sono veramente curioso di cosa Cristian ha in servo per noi. Grazie Alberto, andiamo a creare questo drink, l'importante è la diluizione con il mixing glass perché deve farci digerire ma non alzarci troppo le valvole. Quindi 3 cl di amaro Saverio, 3 cl di cinque elementi, barrique, cerchiamo la diluizione. ghiaccio a volontà, scorza d'arancio con gli oli essenziali dell'arancio. e andiamo a guarnirlo con una bella scorzettina di arancio e una fogliettina di sabbia. Merton saluta. Grazie Cristian, sono veramente curioso. Una bellissima combinazione tra le note erbacce e selvatiche delle diverse radici e delle diverse piante e poi questo finale esplosivo, molto piacevole, delle note lignose, molto bravo. Grazie Alberto, grazie delle belle parole, spero di aver fatto centro con questo After Dinner, con i tuoi prodotti e alla prossima, a collaborazione e tante belle cose. Volentieri, grazie, molto buono. Grazie a tutti. Viva. Grazie a tutti.